Eccomi ragazzi, sono io, sono il vostro amico Gabri Costa, il re dei videogiochi che non delude mai. Voi dovete sapere che in questa PS3, in questo gioco di Metal Gear Solid 4, siamo nel terzo atto che si svolge nell'Europa dell'Est. Questo è il settore nord-est periferia e si sta andando alla chiesa del secondo Eden. Ricordatevi che questo terzo atto si intitola Terzo Sole. Oh attenzione ragazzi, c'è un elicottero, facciamo molta attenzione. Se l'elicottero sta usando un proiettore per sorvegliare la zona, cerchiamo di evitare il fascio di luce. Avete capito ragazzi, Othacom ci ha detto di stare lontani dalla luce. Quando c'è quella luce state lontani. Va evitato il fascio di luce. Finora non l'abbiamo perso di vista il membro della Resistenza, ma seguiamolo sempre. Se continuiamo, forse raggiungeremo Big Mama e dobbiamo scoprire chi è, se è la madre di Snake o no. Ricordatevi che Snake c'è ancora questo impermeabile. Vestitosi sembrava il tipico detective dei film noir di Humphrey Bogart. Non deve sentire i miei passi. Va sempre così di fretta e non ci aspetta. Volete sapere cosa vi dico? Io vi dico che dovete andare sul canale Costanza Films di mio fratello Alex Costa e vedere i suoi cortometraggi. Ve lo consiglio. Anche questo video giunge al termine ragazzi. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci siamo quasi. Siamo quasi arrivati da Big Mama. Dobbiamo proseguire. Se il video vi è piaciuto condividetelo e iscrivetevi. Arrivederci. Un bacione e un ciao da Gabriosta. Grazie a tutti per la visione. Grazie a tutti.